E benvenuti, questa è la prima giornata della terza edizione della Carovana Balacaval. Noi abbiamo cominciato tre anni fa e la Carovana è qua davanti a voi, come vedete, è un luogo dove si fa spettacolo, ma non solo, è più in generale un progetto culturale, una cosa un po' più ampia, perché noi portiamo con noi anche un messaggio. In primo luogo noi viaggiamo con le carrozze, con i cavalli, quindi ci piace viaggiare su strade libere o anche su strade più piccoline, sterrate, insomma i luoghi dove non ci sia stato un grande consumo di territorio e quindi questa è la prima cosa che portiamo con noi, una richiesta di stop al consumo di territorio. Un altro elemento è anche la mobilità dolce, la mobilità lente, quindi il camminare, perché? Perché vogliamo riprendere, cioè pensiamo che l'uscita anche da questa crisi che sta attraversando la nostra società possa passare anche attraverso una ripresa del contatto con la terra e tra le persone. Questo è un po' quello che noi cerchiamo di fare con la carovana, cioè avere un contatto diretto tra di noi anche con il pubblico e un contatto con il mondo che ci circonda, cercando di rispettarlo il più possibile. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.